Dash Senza Fosfati vi presenta Ragazzi in cielo c'è lui L'avvocato Giovanni Agnevi E' lui o non è lui? Certo che è lui Emergenti, rampanti, giovani di successo Sono loro, sempre loro Youpis Chiamateli come volete Ma guardateli su canale 5 Vado eh? Vai, 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 vai e compito Ma hai fatto un male pazzesco In prima visione assoluta Massimo Bolti, Gerry Calà, Christian De Sica e Zio Greggio Youpis 1 e 2 Lunedì 28 e mercoledì 30 novembre Su canale 5 Ti piacerebbe vincere un viaggio con la tua famiglia Nei parchi americani? Oggi puoi Con il grande concorso Shampoo Natura Dolce Sono io Coccolino Con una sorpresa Coccolino detersivo liquido Coccolino per lana e delicati Lava con dolcezza tutto ciò che ami A mano e in lavatrice Un amore di pulito La seta brilla, il cotone pulito La lana è splendente E anche le tende Con Coccolino detersivo ciò che ami rinasce come nuovo Perché io lavo con amore Nuovo Coccolino detersivo per lana e delicati Un amore di pulito Torrone Pernigotti Torrone Pernigotti Torrone Pernigotti Torrone Pernigotti Pernigotti è per te Pernigotti, il torrone di Natale Quando torno a casa mi sentono da lontano Come avessero degli antenne nei baffetti Ciao Bica È bello tornare e trovare qualcuno che ti aspetta Agnello, della Viscas Chissà se le piace Perché la Bica è fatta a modo suo Il bello della Viscas È che uno può scegliere È piaciuto Quando Bica è felice Lo sono anch'io Il mio gatto preferisce Viscas It's not time to make a change Just relax, take it easy You're still young, that's your fault There's so much you have to know Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me I am old, but I'm happy Sai, la compagnia della tua vita Cuori di filetto di merluzzo Mare fresco Il mare ha dato solo il cuore A mare fresco Teneri, bianchi, confezionati uno per uno Cuori di filetto di merluzzo Mare fresco surgela Il mare ha dato il meglio di sé Sapore di mare D'aprire e gustare In un semplice gesto Tutto il gusto del mare Tutta l'energia Di un alimento completo Più sardine Più vitamine Nutrienti leggere Sardine all'olio d'oliva Più sardine Più vitamine E quello cos'è? Un regalo per mamma Un ferro da stiro In più Fa borsima HMX 200 Un sistema da stiro molto potente Che fa tanto vapore Si mette l'acqua qui Non fa il calcare come l'altro Perché ha il filtro E quando è finito Si chiude così Senza fili in giro Vapor Simac MX 200 Quanto di meglio abbia fatto Simac? La mamma l'aiuta Simac La mamma l'aiuta Simac Grazie a tutti.